Proclama eletto alla carica di Presidente della provincia di Taranto il signor Melucci Rinaldo. Così Rinaldo Melucci ha indossato per la prima volta la fascia azzurra da Presidente della provincia di Taranto. Nel salone di presidenza del Palazzo del Governo in via Anfiteatro si è svolta la cerimonia di proclamazione del sindaco di Taranto quale nuovo presidente della provincia ionica in seguito alla competizione elettorale tenutasi domenica 18 settembre. I risultati hanno decretato la vittoria di Melucci con l'83,32% dei voti ponderati contro il 16,68% dei voti assegnati a Ignazio Punzi, sindaco di Montemesola. Alla cerimonia di proclamazione presenti i consiglieri provinciali, il segretario generale e i dirigenti dell'ente. C'erano anche alcuni consiglieri regionali e membri della giunta e dello staff. Di Melucci queste le sue prime parole. In una fase di riorganizzazione saremo tutti in grado di fare poi in sostanza quello che sta facendo il capoluogo già da qualche tempo. L'idea era proprio quella di mettere a sintesi gli sforzi, gli investimenti, le progettorità del capoluogo con quelli del territorio provinciale e fare in modo che anche in altri ambiti in parallelo, come quello dell'area vasta, gli aspetti legati alla promozione, alla cultura, piuttosto che alla diversificazione produttiva, finissero per dare ricadute importanti su tutto l'ambito provinciale.